Buongiorno a tutti, sono Nanda e benvenuti al mio canale. Quest'oggi, come probabilmente avete visto dal titolo, faremo un unboxing dei libri della Mondadori. Ho fatto lo scorso novembre con una ordine della Mondadori e mi è arrivato anche abbastanza velocemente, ma io ho spettato fino ad adesso da quello perché volevo farci un video e non avevo mai il tempo per farlo. Quindi, oltre a questo pacco qua, enorme, gigantesco, non mi ricordo neanche più quali libri contenga, talmente sono passati mesi da quando ho ordinato. Forse un paio, me ne ricordo, il resto no, quindi sarà una sorpresa anche per me. E visto che è passato così tanto, oltre a questo pacco enorme ho anche questo sacchetto gigantesco della Mondadori che in realtà si tratta dei libri che mi sono stati regalati per il mio compleanno dai miei genitori. Il mio compleanno è stato circa tre settimane fa, è stato il 21 gennaio per farvi capire, e questi libri sono stati regalati da loro perché, a me, erano gli stessi libri di cui vi avevo parlato nello scorso video di Natale, quelli che avevo messo nella lista per i miei genitori che fanno i miei regalari, e loro mi hanno preso un po' per Natale e un compleanno. Quindi, oltre a questi della scasola che ho rilato io, ne farò vedere anche quelli che ho ricevuto per il mio compleanno, quindi facciamo due video in uno, ma basta parlare, iniziamo con il video come dovrò di aprire questo pacco. Allora, prendo il mio taglierino e ora, se lo tengo sottolato probabilmente io mi uccido, però almeno voi vedete qualcosa, quindi mettete un like perché io mi sarò per ammazzare. Anche se io muoio, non credo che vedrete mai questo video, quindi dettagli. Niente, non ce la faccio, c'è una superficie che non va bene. Ce la faccio qua. Adesso non so se vedete quello che sto facendo, che sto andando da tenere il pacco perché l'isola è bassa. Adesso io spero solo che non tagliare i libri che ci sono all'interno, perché se no, ho già aperto un pochino. Non so se vedete perché l'isola, cioè sono appoggiata, ci sono la vangigia, ho da poter vedere, quindi non so se riuscite a vederlo. Questo è il rumore di io che cerco di tagliare lo scotch. Ok, allora, ho aperto il pacco, come vedete, si imprevede già qualcosa che non mi ricordavo neanche che avevo ordinato, ma adesso vediamo. Allora, adesso mi cade tutto, lo so. Ecco qua. Non vedete le stesse cose che vedo io, sconfetto. Ecco fatto. Allora, questo è quello che c'è dentro, ma ora niente spoiler. Andiamo a vedere libro per libro. Niente spoiler, in questo studio vedendo cose che mi piacciono. Allora, scusate per il rumore di cartone. Abbiamo un libro piccolissimo che è stato messo, cioè puntato lì così, perché tanto sapevano che era piccolo. Le notti bianche di Dostoevsky. Vedete? Lo avvicino, adesso per farvi vedere com'è il libro. Così. Bellissimo. Adoro questa copertina. In realtà avevo trovato Le notti bianche anche in un'altra edizione del libro, diversa da questa, però volevo prenderlo. Ma poi ho visto questo, cioè, è bellissimo. Credo che quello che avevo visto io era come questi monieri che vedete, questa collana dell'Argenti che io personalmente adoro, che è il fatto di classici, e credo che anche questo rientrasse tra i classici strampati in questo modo dell'Argenti. E però ho visto questa copertina, l'ho vista su Amazon, però poi fortunatamente c'era anche su Mondadori. Vedete? Mi sembra bellissima con queste foglie azzurre, lo sfondo bianco e praticamente le pagine, c'è la copertina, la prima pagina di copertina, e quindi questo specie di cartoncino duro e un pochino rigato è bellissimo. In più le foglie e le scritte azzurre sono lucide. Vedete? Se lo faccio muovere alla luce dovrebbe vederti qualcosa tipo. Mentre il retro è molto simile al davanti, anche questo composto di foglie con la scritta. Sono un sognatore, ho una vita reale talmente limitata che raramente mi capitano momenti come questo. Sognerò di voi l'intera notte, tutta la settimana, l'intero anno, che credo che sia una citazione del libro stesso. Ora, in realtà adesso lo sto sbogliando e... Cioè, non me lo aspettavo, ma... È scritto davvero, davvero in grande. Cioè, i caratteri sono davvero enormi. E, qua, vedete? I caratteri sono gigantettici. Io non me lo aspettavo. Mi sembra quasi un libro che combini, talmente sono grandi caratteri le scritte. E credo che sia fatto principalmente per raffare il libro più grande, più lungo, perché se avessero usato un carattere più piccolo per le parole, ovviamente sarebbe stato molto più colto il libro. Invece così sono riusciti a tirar fuori ben... 132 pagine. Però, credo che questo libro si leggerà... In un'ora, due ore, giù di lì. Quindi sono contenta di questo affitto. Mi serviva un libro del genere. Avevo proprio voglia di leggere qualcosa di corto, ma avvincente. E credo che questo libro farà a caso mio. Anche se ho aspettato tre mesi, perché ce l'ho da novembre, per aprire questo pacco e ritrovarlo. Avrei potuto leggerlo prima. Ma vabbè. Passiamo al prossimo. Dopo quello di piccolino, abbiamo questo. La casa su mare celeste di... Voi ne sapete che io con i nomi degli autori, soprattutto se sono stranieri, faccio fatica. TJ Klum. Spero che sia il suo nome. Comunque, il libro in questione è questo. Vi faccio vedere meglio. Se magari non muovo come se fosse il Parkinson, sarebbe l'ideale. Appunto, la copertina è quasi satinata, come se fosse fatta di velluto. Mentre le scritte sono, appunto, lucide, fatte tipo di plastica lucida. E la casa su mare celeste. Ne ho sentito parlare un sacco. Ah, scelate, poi il retro è così. No, volevo farvelo vedere, perché stupendo sarebbero in realtà le nuvole con il cielo e degli alberi, che mi sembra stupendo. Quindi, quello qua, ve lo vedete. E questo libro, in realtà, io l'ho preso perché ne parlavano tutti su Instagram, su book Instagram, ovunque ti giravi, c'era questo libro. E io ho detto, non posso non prenderlo, sembra davvero stupendo. E in realtà non pensavo fosse così grande, in realtà è molto spesso, credo che siano almeno 300 pagine, se non di più. Ah, peraltro. Sono 390. E calcolate che sono scritte abbastanza in piccolo, molto più in piccolo rispetto alle notti bianche, anche se hanno questi ghirigorini qua, di qui, che tolgono un pochino di spazio, ma credo che comunque questo libro sarà bello lungetto da leggere, però non vedevo l'ora di averlo e quindi sono contenta di averlo acquistato. Tra l'altro, voglio vedere all'interno com'è. Oh, no, vabbè, guardate, che bel blu, che bel celeste. No, vabbè, adoro, bellissimo. Peccato che non abbiano fatto lo stesso celeste sulle pagine di copertina. Molti lo fanno e devo dire che lo trovo stupendo come cosa. Ah, all'interno questo qua che si ripiega è nero pece, ok? Mentre il libro in sé è cartonato con... Sì, semplice cartonato di un colore un po' bruttino, sinceramente, però, manomani, c'è la copertina che copre. Così è molto meglio. Poi, 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 poi. Uh, 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 Il circo della notte di Erin Morgenstern. Dobbiamo parlarne? Vogliamo parlarne? Cioè, questa copertina è stupenda. Il retro, invece, è proprio così, con lo stesso tendone che c'è sul davanti, vedete? Questo qua è uguale a questo. E, eh, qui sopra ci sono, appunto, degli acorobati fatti al circo della notte, non per nulla, con qua un uomo, una donna, e tutti questi dettagli rosso brillanti su uno sfondo nero con dei decori bianchi, un orologio, con i numeri romani. Cioè, ma ditemi, se questa copertina non è stupenda. Ditemi che non è stupenda. Di questa altrice avevo anche il mare senza stelle. Adatto, questo qua. Questo qua, che tra l'altro l'avevo fatto, l'avevo preso in un unboxing, cioè il primo unboxing che ho fatto in realtà di libri del mio canale che, tra parenti, vi lascio qua. Se volete recuperare, quello è stato circa a marzo dell'anno scorso. E, infatti, potete vedere che i due libri hanno molte similitudini, a parte il colore di sfondo che questo è blu e questo è nero, ci sono, cioè, le copertine ovviamente sono molto simili. Hanno tutti e due i ghiri colori qua bianchi, mentre i dettagli e gli oggetti sono colorati e lucidi, come in questo. Il mare senza stelle in realtà è molto più grande se vedete lo spessore. Vedete? Il mare senza stelle è molto più spesso rispetto al circo della notte. E ho voluto comprare, sì, lo so, non riesco a stare fermo con i libri. Ho voluto comprare anche il circo della notte, nonostante io il mare senza stelle non l'abbia ancora letto perché, uno, ho sentito parlare benissimo di questa autrice e quindi non credo che mi deluderà e, secondo, a parte il mare senza stelle, quello che in realtà tra questi due mi inclusiva di più come frammento libro era appunto il circo della notte. però, quando avevo fatto quell'ordine di circo della notte non c'era... cioè, comunque, non l'avevo trovato non so se e non era ancora in produzione, cioè, non era fatto ancora stampato e era solo in inglese, non me lo ricordo, sinceramente. So solo che non potevo prendere questo e allora l'avevo preso per mare con stelle però questo lo desideravo da un bel po' e finalmente ce l'ho, sono contenta di avercelo e non vedo l'ora di leggerlo anche perché credo che questa autrice sarà magnifica. Passiamo a uno di Shadowhunter, quindi The Discourses di un'inglese Shadowhunter il libro bianco peluto di Cassandra Clare ovviamente questo peluto sia l'unico nome che sta per pronunciare bene oppure sto vedendo pure questo probabile è fatto così ovviamente è bianco visto che si chiama appunto il libro bianco perduto ovviamente la struttura è bianca con questo sole e la città doppia sempre è quasi che si rispecchi in un fiume in un lago e qua c'è la città normale qui c'è la città perché metà volta dai demoni anche qui ci sono un sacco di dettagli lucidi credo che ormai tutti i libri li facciano così perché sono tutti così con un sacco di dettagli lucidi però non mi sto lamentando anzi mi piacciono un sacco quindi fanno bene continuate così i case editrici mentre nel retro abbiamo Alec e Magnus che stanno combattendo perché da quello che ho capito questo è un libro dedicato a loro non ne sono sicura non prendetemi sulla parola ma credo che sia una storia letteralmente su di loro ah tra l'altro tra l'altro sto notando adesso che intanto la città continua qua vedete qua dietro e per finire qui ma qua sotto nell'angolo adesso no davanti no solo qua sotto nell'angolo e un pochino qua ci sono delle rune che si vedono solo con la luce un po' traslucide che si vedono solo se illuminate non so se riuscirete a vederle comunque solo qua vedete mentre nella copertina non ci sono devo dire che io non leggo un libro di Cassandra Clare da tre anni tre anni sì e l'ultimo libro che ho letto credo che sia stato le cronache dell'Accademia Shadowhunter che non mi aveva fatto esattire e per questo non l'avevo non avevo più detto niente nonostante io come potete vedere abbia quasi tutti i libri di Shadowhunter ma in realtà mi sono fermata qua questi non li ho ancora letti quindi credo che questo qua farà la stessa fine io sto aspettando di fare una rilettura di tutti gli Shadowhunter per poi continuare la saga e leggere appunto quelli che non ho ancora letto ma è una cosa che mi richiederà un sacco di tempo visto che sono cinque della saga originale tre i prequel più ci sono le cronache di Manius Bain dalle cronache di H di Michelle Hunter un'altra trilogia sequel un'altra trilogia nuova che sta uscendo adesso per ora ci sono solo questi due questi due credo che siano degli Stenthalons o no? no? non credo? questo qua? credo che vada insieme a questo credo che questo qui blu perdonatemi se non sono tanto informata ma appunto come vi dicevo non leggo cose di Cassandra da molto tempo credo che questo e questo siano questo i prequel di questo anche perché qua c'è sempre scritto Dead Discourses mentre mentre questo credo che sia uno stand alone quindi credo che questo libro lo leggerò ma molto più avanti tra molti anni spero di lo leggerò quando avrò tempo quindi mai mai già vedo sono rimasti solo due libri ma già vedo allora quello che il più grosso ecco facciamo vedere il più grosso allora il più grosso è L'inverno del vampiro di Jay Kristoff allora partiamo da dire che è un tomone enorme perché guardate quanto è grosso cioè non mi sta quasi in mano devo appoggiarlo come un bambino in pratica e allora partiamo dalla copertina che non so come tenerlo vi giuro è trattamente grande sperate che guardo quante pagine ha non avevo appena visto una cosa non so se l'avete visto ok ok 700 ok i disegni a 711 pagine per questo che è così grosso ma nell'aprirlo ho visto questo cioè ma che bella cartina è una cartina stupenda poi ci sono delle ormi staginate o sono dei trattini non lo so e no vabbè no vabbè no vabbè allora no 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 aspettate un attimo aspettate un attimo fermato il gioco no vabbè allora 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 iniziamo con dire che sì lo so ho tolto il libro ma la copertina abbiamo questa copertina nera con dettagli rossi bianchi sempre così ormai li fanno tutti così in libri o meno quelli che compro io li fanno tutti così e abbiamo questo specie di insieme di creature tra cui c'è un serpente due angeli la morte un cavallo nero un lupo un leone dei corvi credo non ci vedo bene io credo che questa sia una volpe e poi c'è una montagna a rovescio con degli alberi e una spada che è avvolta dall'espire del serpente ma in tutto questo ci sono un sacco di dettagli rossi che rendono la cosa un po' macro perché ci fanno sangue e questi dettagli non vengono impigliare e questi dettagli sono lucidi perché si vedete brindano questa è la copertina ufficiale però però ho che ne ho notato che se voi aprite c'è un'altra copertina cioè c'è un'altra copertina diversa diversa però è un'altra copertina è totalmente diversa perché appunto qua anche qua su un lato c'è il richiamo più o meno dello stessi colori delle stesse cose che c'è sulla copertina però però qua dentro invece che credo che si possa ripiegare tipo così tu ripieghi questo e questo qua e lo metti al libro così qui invece che è fatto più di carta all'interno un pochino più sottile o meglio in realtà anche questo è fatto di carta sottile però qui fuori è un pochino più lucido e rispetto un po' meglio alle temperie diciamo mentre qua dentro è fatto proprio di carta e abbiamo sempre l'impero del vampiro come nome un tizio che credo sia il protagonista con i capelli neri e un tatuaggio fighissimo alla spada e a petto nudo perché è a petto nudo vabbè ovviamente con un leone sì questo è un leone ragazzi io non riesco a distinguere gli animali questo è un orso con un orso un serpente un lupo e un'aquila che sembrano fatti di sangue e in più la scritta qua sul lato è fatta in questo corsivo magnifico ora ora io direi che quella copertina che mi piace di più è questa solo perché solo perché qui ci hanno messo l'uomo che credo sia il protagonista ma devo dire che la figura qua secondo me non rende bene però volendo se voi volete potete girarlo e sembra esattamente un'altra copertina potete scegliere voi quali copertina avere ed è fantastica è una cosa fantastica in più in più perché non è finita sto libro ci sta regalando ancora altre sorprese speriamo che almeno sia bello da leggere perché sennò mincavolo in più se vedete a parte che questa copertina rigida è fantastica non sembra come le altre sembra molto più solida e non fatta di cartone ovviamente però non sembra sembra quasi carbone da come è fatta forse perché con la data di nero e ha delle lighette sembra carbone ma io lo adoro e in più abbiamo questa stella tipo pentagramma che sia un pentagramma fatto lucido mentre tutto il resto è opaco e questo pentagramma continua su tutti i lati del libro fino alla fine ovviamente non sulle pagine e lo avvicino farvelo vedere meglio ditemi voi se non è fantastico in più cioè questo è quello che è passato in secondo piano per me le pagine sono colorate di questo color rosso mattone e niente sono fantastiche in più dentro ho notato adesso che c'è un'altra cartina blu ditemi che non è fantastico questo è gialla e verde mentre questo è blu e mi sembra che all'interno ci siano anche dei disegni mentre scogliavo prima per vedere quante pagine avesse credo che ci siano anche dei disegni no niente no scherzavo non ci sono dei disegni o meglio sì aspettate forse ne sono alcuni sì sono un po' sporadici ci sono dei disegni sporadici dentro qui c'è una donna con tanti capelli lunghi e da esempio così non so a chi studia non so cosa voglio dire perché ovviamente non ho letto questo libro però lo leggerò molto presto molto molto presto poi ultimo libro della scatola dell'ordine che ho fatto a novembre tra l'altro questo mi ricordavo di averlo preso gli altri no ma questo sì è ragazza serpente spina di melissa fasciardust 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 voi lo sapete che ho un problema allora questo comunque questo è molto carino anche qui sempre con questi dettagli lucidi sul sfondo opaco dove abbiamo anche qui un serpente ovviamente il titolo è ragazza serpente spina delle rose ovviamente e appunto delle spine ci vuole qualcosa manca solo la ragazza e poi il titolo è completo su questo sfondo tra l'altro di un bellissimo azzurro quasi azzurro acqua con i serpenti rotondi rotondi i serpenti sono rotondi non bianchi rotondi scusate serpenti bianchi con la lingua nera e tutte queste rose allora poi sento parlare del fatto che all'interno ha queste pagine color pesca che io voglio dire sono magnifiche sono magnifiche in più oddio santo oddio santa no vabbè no non ci credo ma perché sono così belli questi libri perché sono così belli questi libri no 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 ragazzi no 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 sono troppo belli no allora no vabbè no vabbè allora iniziamo da dentro che c'è questa copertina nera un po' lucida tra l'altro ho fatto di questo materiale molto graffiabile non so se avete presente quel materiale che se ci passi un dito ti rimarrà il graffio a vita o anche se lo tocchi quando hai le mani sporche ti rimarrà l'impronta il manco fosse stata una lavagna e su questo sfondo sempre opaco nero ci sono due serpenti aggroviati tra loro lucidi che probabilmente fanno un simbolo che servirà alla trama del libro vedete lucido e non è finita qua perché vi ho detto che le pagine sono color pesca bene il lato del libro vedete qua c'è il nero poi si ferma e comincia questa parte che è tutta rosa cioè noi abbiamo il lato del libro rosa cioè io lo metterei nella mia libreria così cioè ditemi se non è stupendo rosa con queste scritte nere cioè è stupendo lo adoro lo adoro lo adoro basta finito credo che purtroppo però il contenuto di questo libro mi deluderà non so perché ma ho questa sensazione e nessuno in realtà ne ha parlato male però quando l'ho comprato dopo ho avuto la sensazione che questo libro non sarebbe stato all'altezza delle mie aspettative ma vi saprò dire per ora io lo adoro tra l'altro il dentro è questo bellissimo azzurro che richiama questa copertina con ovviamente delle altre rose che fanno parte del titolo credo che siano piuttosto importanti e stessa cosa per l'altro lato ma è finita perché se vedete il dentro della copertina cioè questa copertina il dentro non so se vedete o vedete dei riflessi ma richiama esattamente l'immagine della copertina richiama esattamente questa immagine qua è tutta dentro è tutta dentro sembra quasi un poster cioè lo si può attaccare così talmente bello c'è anche una scritta in basso che dice aveva letto un numero sufficiente di storie da sapere che la principessa e il mostro non erano mai la stessa persona ed era stata solo abbastanza lungo da sapere quale delle due creature fosse lei che è praticamente una citazione del film della citazione del libro ma è bellissimo è stupendo basta 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 bene abbiamo ufficialmente finito quello che c'era dentro la scatola c'è solo il mio indirizzo con l'ordine magari questo non mi interessa e ora e ora passiamo a questo ah vi giuro appena più questo se lo scatola sarà perché qui sono un'infilata all'altro e bisogna tirare gli stessi da qua ma vi giuro appena mettiamo qui in tale iniziamo perché questo video mi sa che sta durando anche troppo allora iniziamo con un libro enorme uuuh allora 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 il priorato dell'opero delle arance di Samantha Shannon 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 lei una tizia comunque e in realtà questo libro mi è stato regalato da una mia amica sempre per il mio compleanno e quando me l'ha regalato era impacchettato e io ho visto questa cosa sapevo che fosse un libro perché io le avevo chiesto questo libro o un altro perché lei non sapeva appunto regalarmi allora io ho fatto una piccola lista di quello che mi sarebbe piaciuto ricevere tra cui c'erano due libri e ho capito che questo era un libro ma era talmente grosso che pensavo mi avesse prese tutte e due e invece l'ho aperto e ho scoperto che era solo un libro era un libro solo è solo che è enorme è enorme sono sono 769 pagine 769 pagine 769 pagine vi rendete conto? cioè questo è l'unboxing dei libri enormi dei libri giganti cioè non è un unboxing qualsiasi cioè sono enormi ma andiamo a vedere a pertina allora questo libro ha questa torre con ovviamente tutti i libri sono fatti così con sfondo satinato opaco e i dettagli poi lucidi e brillanti infatti abbiamo questa torre con le finestre più lucide anche le regole lucide con questo dragone credo che sia un dragone perché mi sembra che sia in Cina mi sembra che questo libro sia inventato in Cina quindi questo dragone blu bellissimo con queste scaglie tutte luccicanti quasi che sta rotto intorno a questa torre e qua del fuoco che non sembra emanare il drago anzi il contrario sembra che quasi il drago si stia mettendo al riparo da tutto il fuoco e le fiamme e queste fiamme continuano anche all'interno del libro oh mio dio ho appena visto una cosa oh mio dio allora manteniamo la calma mentre il retro c'è un pinta di niente ah giusto il drago poi continua qua sul lato del libro con la sua coda dove c'è ancora il titolo del libro ovviamente e qua sul retro abbiamo un altro dragone diverso da quello di prima perché credo che al fine sia tutto un continuo con altre fiamme e la luna o il sole credo che sia il sole credo che sia un da scena al tramonto ma ora perché ho detto mio dio prima? perché ho visto una cosa ah tra l'altro questo dragone ha le ali cioè io non me ne ero accorta visto da questa angolazione ma queste sono le ali del drago non è come uno di quei draghi cinesi che sono senza ali più o meno nooo ce li ha avanti guardate che righe no vabbè mentre questo non sembra verlo questo sembra proprio il classico drago cinese ma allora a parte che questo libro ha ovviamente si non voglio farvi vedere quello che mi ha fatto scioccare prima questo libro ha le pagine colorate di questo bellissimo arancione che infatti ci sto un sacco perché ho lavorato delle arance secondo me avrebbero dovuto magari farlo un pochino più color pastello visto che l'arancio non è comunque si è di questo colore però secondo me con i toni che hanno usato qua molto più chiari, più soft avrebbero dovuto usare un colore più simile a questo secondo me invece che questo arancione è proprio quasi florescente però vabbè lo metto e tra l'altro questo libro è così grande che ha anche il segnalibro guardate ha pure il segnalibro di questo arancione che secondo me ecco questo è l'arancione che secondo me è proprio dovuto usare anche per le pagine ma è bellissimo tra l'altro se lo guardate da questa angolazione quando il libro è aperto le pagine formano questo bellissimo color pesca e adoro, 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 adoro ma, ma, cos'è che mi aveva fatto dire oh mio dio, prima questo non so cosa sia ma no, no, ma che figli questi libri no, sono troppo belli sono troppo, troppo belli io adoro, li adoro, basta questi non li leggo neanche, li metto a loro disposizione sono troppo belli troppo, troppo allora, iniziamo con questo all'interno di questo che, che, che ha, credo, una spiegazione di di tutti i regni con il relativo stemma, vedete questi qua e questi qua mentre al centro c'è questa specie di miniatura è, scusate il rumore l'albero della vita si è la miniatura dell'albero della vita vedete? questo è dentro invece questo è il cuore se non l'avevate visto prima adoro, adoro poi, tra l'altro, qua dietro che è il retro del libro c'è scritto un mondo diviso un regno senza i redi un antico nemico che si risveglia un epic fantasy che narra dei draghi di un mondo sull'orlo della rovina e delle donne che lottano per salvarlo cioè, ma è fantastico tra l'altro non avevo notato che in questa cittadina questa cittadina è adesso me la vado dell'impaggiatura e vi lascio solo questa perché è fantastica questa piccola cittadina è su un fiume con le montagne cioè, guardate l'intera l'intera cosa com'è figa cioè, è bellissimo è bellissimo io l'adoro io l'adoro, basta è bellissimo è praticamente tutto un intero racconto solo questa copertina è stupenda è stupenda basta non potete neanche farmi cambiare idea altra cosa l'interno di questo libro è ovviamente sempre lo stesso cartonato lo stesso cartonato rigido ma è blu 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 arancione cosa che l'iglia di Tim Wolf direbbe che non stabila bene ma è fantastico invece e abbiamo questo dragone la sagoma di questo dragone fatto più lucido rispetto al libro opaco e in realtà questo è proprio credo che proprio sia della plastica che è stata applicata sopra c'è proprio un stencil a forma di dragono voi, cioè ditemi quanto è fatto bene in più in più cosa fighissima e qua guardate questo guardate quanto è bello quanto è bello con questo questo color arancione tutto brillantinato la coda del dragone che continua anche sulla parte laterale del libro e il nome dell'autrice sempre richiama il colore del titolo del libro è bellissimo io lo metterei solo nella mia libreria già così perché è stupendo lo adoro poi vabbè qua non c'è niente ma basta basta questo video lo so metterò il titolo dei bombotti dei libri più belli che io abbia mai avuto lo so è questo il titolo giusto per questo video poi 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 abbiamo questa che è d'accordo è caduta due centimetri da me non importa dalle sette morti di Evelyn Hardcastle oh forse è il nome che ho pronunciato bene ma non è il nome dell'autrice quindi ehm il nome dell'autore credo che sia il nome Stuart si chiama Stuart Stuart Turton o Turton vedete ancora non lo so la copertina adesso vado un po' più veloce per questo video io so che due erano anni presenta varie persone due donne due uomini e un uomo e una donna che questi due si hanno umanciato come una cameriera guardate con questo pavimento fatto che sembra quasi una scacchiera e questa casa molto vintage e due mani qui ai lati che erano dei pezzi degli scacchi infatti appunto richiamano un po' la scacchiera nel pavimento e in tutto questo sembra che ci siano tante porte concentriche che alla fine conducono tutti a quest'ultima porta qua aperta su una stanza che non si vede all'interno mentre il retro è semplicemente così bianco con le recensioni di quelli lì che l'hanno letto e cosa ne hanno pensato anche questo nonostante non sembri tanto grande rispetto agli ultimi che abbiamo visto ha le sue belle 526 pagine quindi non è un libro piccolissimo anche se devo dire che rispetto agli ultimi libri che sto tirando fuori adesso questo è praticamente il minuscolo oh 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 un libro totalmente diverso in base alla copertina i sette mariti di Evelyn Hugo di Taylor Jenkins Raid l'avrò detto bene chi lo sa questo a differenza di tutte le altre copertine non c'entra niente con quello che io sono abituata a comprare come avete visto infatti in questa copertina verde principalmente abbiamo l'immagine di questa donna con questo vestito di credo che sia seta seta o comunque di seta questo smalto è rossetto rosso che si abbina tra la copertina bionda sia il qua che ha i capenti biondi e il suo corpo finisce praticamente dietro al libro e praticamente niente c'è questa notizia che io credo che sia Evelyn Hugo e effettivamente questa copertina è diversissima da quella che sono stata abituata in questo video gli altri libri avevano tutte delle copertine sbrerlucicanti con uno strappo di animali fantastici invece questa no ma perché questa non credo che sia un fantasy e quindi mettere delle cose sbrerlucicanti non credo che sia stata la cosa migliore da fare anche questo ha una copertina rigida però nonostante questo abbia una copertina semplice devo dire che l'interno cioè l'interno vogliamo parlarne ovviamente l'interno è fatto così questo grigionino un po' triste che è lo stesso che c'era anche all'interno di la casa sul mare celeste è la stessa cosa infatti è sempre della Bombadori e sicuramente questo colore non piace tanto fa molto libro antico però rispetto a quello che ho visto finora questo è un po' scarso come colore è un po' triste ma a parte questo c'è qui qui c'è lo stesso gioco che hanno fatto per l'impero del vampiro perché questa è la copertina e siamo tutti d'accordo la tizia ha distesa su questo specie di telo verde con anche lei il sito verde e poi la sezione di commento e ok siamo tutti d'accordo ma se le girate da da abbiamo questa altra scopertina che si può praticamente girare basta sempre piegare qua i lati cosa che io non farò perché comunque questa scopertina è molto più lucida mi piace un pochino di più rispetto a questa che invece è più satinata e opaca ma vogliamo parlarne qui si vede la stessa persona che si vede anche sulla copertina dietro però questa volta è in piedi e mostra tutta la bellezza del suo vestito che devo dire è davvero carino soprattutto perché credo che questa storia sia ambientata negli anni 20 o giù di lì e quindi credo che questo vestito sia davvero fantastico per quell'epoca quantomeno un po' diciamo per le perle un po' così e questo taglio vabbè però il vestito è davvero fatto bene oppure anni 20 anni 50 comunque siamo nella prima metà del novecento so che c'è differenza tra anni 20 anni 50 dettagli mentre quello che dovrebbe essere il retro che dovrebbero essere piegate e questo diventa il retro c'è la stessa donna a quanto pare che però ha una finestra con un calice di champagne che guarda il tramonto e vedete così e c'è la scritta che dice chi è stato il vero amore della sua vita? è quella la madre di tutte le domande l'esca del libro sette mariti quale ha amato di più? quale è stato il suo vero amore? la vecchia hollywood degli ultimi vivi la città dei sogni rivivere un racconto ammaliante sulla ricerca della verità e ci sono anche dei degli hashtag strani non so se li vedete qua giù ma vabbè dettagli e comunque anche qua si può fare lo stesso gioco si ripiegano questi due e si può diventare questa la vera copertina del libro e secondo me è una cosa fantastica il fatto di poter scegliere qual è tra le due ovviamente sulle opzioni se possono dare la copertina del libro secondo me è una cosa davvero geniale geniale basta io sono sempre più sorpresa da questi libri senza contare che dentro le pagine qua solo la prima cioè solo l'ultima e la prima sono di questo bellissimo verde che ricordano un po' il verde delle delle roulette del tappeto delle roulette non so perché ma mi ricordano quel verde lì questo video sta durando 5 anni mi sta esaurendo la batteria della fotocamera quindi mi sfrigo non mancano tanto solo due libri abbiamo questo Mexican Gothic di Silvia Moreno Garcia che è questa autrice credo latino-americana o comunque si spagnola credo non so che c'è differenza ma credo che sia latino-americana infatti sulla copertina che è molto simile a quella dei sette mariti di Erdogan Buco ma in questa copertina abbiamo una donna che è chiaramente ispanica o comunque del Sud America che ha sempre un vestito stupendo questo mi piace ancora di più del vestito di quello di prima rosso stupendo davvero bellissimo con in mano questi fiori il vestito poi ovviamente finisce fino a qua nel dietro e alla fine dietro c'è questa carta da parati verde anche qui il colore principale se mi resta è verde e tutta a fiori infatti vedete non so se è riuscito a vederlo vedete fiorata che poi è la stessa anche che si ritrova qua all'inizio ma ho visto una cosa e mi sembra esatto esatto anche questo libro è uguale è uguale la moda Dore adesso sta facendo tutti i libri di questa maniera sempre questo trestino green questo trestino marrone d'accordo non mi interessa anche qui abbiamo all'interno un'altra copertina un'altra copertina guardate questa è quella principale che è quella che mettono loro nel libro ma qua è questa cioè questa qui questo devo dire che mi ricorda un po' una specie di fumetto anni 80 o comunque uno di quelle di quei poster pubblicitari per i film che uscivano negli anni 80 magari un horror con infatti questa donna che dovrebbe essere la protagonista con questi capelli raccolti in questa maniera molto all'antica diciamo questa lanterna dell'ottocento o giù di lì e questa casa che sembra una casa stregata in più queste scritte un po' sbilenche mi ricordano un sacco uno di quei poster per il cinema e infatti 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 no no non lo sapevo non l'avevo notato infatti qua c'è scritto regia di Silvia Moreno Garcia che è l'autrice del libro perché questo non credo che sia un il testo di un di un film cioè non lo è per niente non è il testo di un film non è la sceneggiatura di un film questo libro è un libro normalissimo quindi cioè è bellissimo lo adoro lo adoro ma è bellissimo è bellissimo io non ce la farò mai basta ormai questo video durerà una metà tra l'altro scusate se colpisco sempre la la il sacchetto ma è qui davanti tra l'altro qui in alto c'è scritto una maggiore una maggiore una maggiore una maggiore isolata e maledetta un gentil'uomo carismatico ma inquietante e una donna coraggiosa decisa a svelare i loro segreti questa casa è marcia fino a un milollo puzza di putrefazione trabocca di ogni possibile perfide e crudelità ho provato a restare solo di mente a tenere alla larga questa malvagità ma non ci riesco sto cominciando a perdere la commissione del tempo e dei pensieri ti prego, ti prego no vabbè no vabbè ma io adoro ma io adoro in realtà non so quale sia la trama di questo libro ma sono molto tentata a mettere questa come copertina principale non credo che lo farò perché comunque questa è molto più lucida rispetto alla copertina che ci danno già questa qui è molto più statinata e quasi vellucata quindi credo che essendo la principale terrò questa ma comunque questa all'interno è stupenda l'adoro l'adoro per non potete capire quanto tra l'altro il libro mi sembra mi sembra anche molto molto interessante soprattutto dopo aver letto quello scorcio di trama diciamo sembra molto interessante non ho mai letto il libro di un'autrice sudamericana o comunque spagnola non credo di avere cioè non ne ho mai letto uno e quindi sono molto molto curiosa ho solo letto autrici comunque italiane ovviamente o americane quindi invece sono molto curiosa di vedere come sarà lo stile di questa autrice ultimo libro che in realtà aspettate che ho messo via che in realtà dopo aver visto tutte quelle magnifiche copertine non sembra neanche un granché ultimo libro è E in Tempezza di Cristel Davos dell'attraverso specchi questo infatti è il quarto libro dell'attraverso specchi qui ho già il primo che tra l'altro mi sono fatta arrivare in quel video in cui vi dicevo che facevo l'unboxing dei libri che vi ho già messo qui in alto a sinistra mentre gli altri due della saga quindi il 2 e il 3 mi sono arrivati per Natale che mi hanno regalato i miei genitori e anche questo ci ho fatto un video e se ve lo siete verso ve lo lascio anche questo qui in alto a sinistra se avete voglia di recuperarvelo mentre questo qua è il quarto infatti sapevo che il primo paio sarebbe arrivato anche il quarto perché regalarmi solo il 2 e il 3 non pensavo funzionasse tanto bene per i miei visto che c'è anche il quarto questa saga appunto come dicevo anche nell'altro video sui libri di Natale che è quello che vi ho lasciato qui in alto non l'ho ancora letta perché sto aspettando di avere abbastanza tempo per leggere una saga così grande perché comunque si compone da 4 libri dei quattro libri che quindi non è qualcosa di molto leggero per di più sono molto molto grandi come vedete cioè non sono piccoli quindi mi richiedono davvero molto tempo e mi dispiacerebbe se le iniziassimo poi non avessi tempo materiale per dedicarli invece questa copertina è rosa questa copertina è rosa quindi è automaticamente la mia preferita invece credo che la prima era blu la seconda credo che fosse verde e la terza gialla mentre questa è rosa quindi la adoro anzi la 2 gialla e la terza verde perché guardato qua guardato qua vedete che questi sono gli altri tre volumi e questo devo dire che ho notato questa faccia in questa struttura e mi ha fatto preoccupare cioè davvero inquietante non so se la vedete anche voi ma questa qua ditevi se non è inquietante questa faccia ma a parte questo è più o meno come tutte le altre e rispetto alle copertine che ho visto finora che mi hanno fatto davvero allucinare questa non è neanche tan granché è semplicemente più opaca qua mentre ha le scritte tra l'altro rosse quindi già adoro lucide e anche qui la saga della traverso specchi libro quarto mentre in questo caso il nome dell'autrice che invece negli altri libri era sempre comunque evidenziato lo stesso colore dei titoli qua è semplicemente nero senza particolari strutture lucichi vorrei farvi vedere tutti i libri che vi ho appena mostrato tutti insieme perché sono davvero tantissimi ma io pure che se li sollevo io mi spacco la schiena ci proverò per voi bene questi sono tutti i libri non so neanche se li sta inquadrando tutti ma eccoli eccoli questi sono tutti i libri mi sto anche appoggiando alla libreria e mi stanno uccidendo mi sono soffocando cioè ditemi se non sono fantastici ora di fondo perché sono davvero mi sono uccidendo aiuto detto questo il video si conclude qua credo che sia durato anche troppo abbiamo visto dei libri davvero bellissimi io non pensavo che tutti i libri fossero così belli spero che lo siano anche all'interno cioè spero che anche il loro contenuto sia tanto bello quanto l'esterno sicuramente ve ne parlerò ai prossimi video e noi ci vediamo alla prossima volta ciao